Questo video riguarda i migliori tre alberi di Natale artificiali ecologici. Il vincitore della qualità è il GDGC albero di Natale. L'albero di Natale è realizzato in materiale PVC ecologico, sicuro da usare e che rende l'albero quasi vero. Inoltre, i rami densi e il colore verde ricordano un abete vero. Può essere installato ogni anno ancora e ancora. Può appendere le palle di Natale, le lucine e altre decorazioni su di esso.aghi estremamente densi perfetti per decorare. A eccezione dei rami e degli aghi, l'albero di Natale non è illuminato neanche decorato con altre decorazioni. Il nostro pino di Natale è disponibile in parti e i rami possono essere piegati per riporlo facilmente. Il nostro albero di Natale è realizzato in materiale PVC di alta qualità, che non solo rende l'albero più reale e più pieno, ma aggiunge anche la capacità antischiacciamento dell'albero. La maggior parte degli alberi di Natale artificiali viene utilizzata per anni e anni. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Baccagi albero di Natale. E' sicuramente il protagonista del Natale dove i bambini scarteranno i regali e gli ospiti rimarranno incantati con l'albero di Natale targato Baccagi. Con i suoi 180 cm di altezza e 732 rami che lo rendono molto folto, caratterizzato da foglie a doppia colorazione verde chiaro e verde scuro per un effetto davvero realistico. Questo albero arrederà la vostra casa in modo splendido e armonioso. E' completamente ecologico ed ignifugo conforme a tutte le norme europee. Questo Natale fai le cose in grande. Il design esclusivo dell'albero superfolto porterà la giusta atmosfera natalizia ovunque verrà installato. Diametro della base 110 cm A. Aste con innesto ad uncino e base a croce pieghevole in ferro. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno. Il vincitore del premio è il Costway Albero di Natale. Gli aghi sono realizzati in PVC ecologico, sicuro da usare e conferisce un aspetto realistico. Inoltre, i 220-400-700-1000 rami e il colore verde ricordano un abete vero. Con una base di ferro resistente, l'albero di Natale è stabile e durevole. Rispetto alle base di plastica, questa di metallo garantisce un ottimo supporto ed equilibrio, mantiene l'albero in verticale ed evita che si rompa. L'albero di Natale è snello e salva spazio. È perfetto da mettere negli angoli, in stanze piccole e nelle aree con spazio limitato per aggiungere un tocco di originalità. Quest'albero di Natale è la decorazione perfetta per interni ed esterni, crea un'atmosfera festiva e aggiunge un tocco naturale tutto l'anno. È ideale per decorare casa, ufficio, negozi, appartamenti, ecc. Con le istruzioni chiare e brevi, l'albero di Natale è diviso in 2-3-4 sezioni per montarlo, smontarlo e conservarlo facilmente. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.